poi c'erano gli audi io lo sposto gemo che gioca l'ol con i corgi ma è già mercoledì la live si chiama mercoledì ciao staxan tanto povero hank che stasera scena non lo facciamo apposta hank te lo giuro anche l'altra opzione era valorant però luca non l'ha scaricato è tipo il protagonista di un film bollywood su prince of persino pg tipo si è tipo un mix poi anche di abilità mix tra tutti i campioni già visti a tutto nel kit a tutto vi guarderò entrare con piacere ma si se mi dà il tempo di patchare quanto ci metti cretino ci metterà 5 secondi intanto vi faccio vedere la patch note allora ragazzi hanno nerfato gwen in top hanno nerfato n in mid hanno nerfato wukang in top fortunatamente hanno nerfato viego in mid e in top così magari la gente comincia a giocare nel ruolo in cui è nato solo per i pro marco guarda anche le barrette a fianco quindi per me 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 edito hanno nerfato avrei un sol per i viola che non so chi siano baffato blitzcrank adesso quando hanno esagerato ciao poppy ciao poppy hanno baffato nidalee vediamo un po' cosa hanno fatto a nidalee a nidalee hanno aumentato la vita e l'hp per livello vabbè sti gran puttanati cosa hanno fatto assolutamente hanno subito nerfato irelia e kyle irelia era diventata sbroccata in top bah no davvero sbroccata irelia non sono molto d'accordo già non le resistenze l'aiuto a staxi ok hanno giustamente ridotto la guarizione della w di sylas perché effettivamente ultimamente era molto alto hanno anche aumentato per il danno dell'esplosione della q della q perché faceva nulla hanno baffato sindra non lo sarei immaginato hanno diminuito il costume minor league ma solamente nei primi tre livelli quattro livelli in realtà comunque ma parlando di altri moba che avete portato oggi ci si mette troppo a fermare quei cazzo di crediti si veramente tanto scegli io ah no mi sa che sta ancora parciando ma intanto lo invito eh però è davvero carino è davvero divertito sì devo dire di sì amici mercoccio cabaglia vedo un attimo io di metterlo vedo un attimo non sei d'accordo 8% di we rate in una patch e basta ma io non sono d'accordo sul fatto che top lane fosse ggwp cioè mid sì top lane è esattamente ggwp top e i mid a me piace molto i più mid ok dovrei aver rimesso il il codice cabaglia considera che top ha il fatto che con può fare un sacco in uno percentuale quindi scioghi tank che è proprio quello a cui serve praticamente olio grazie leonario io io siamo veramente contenti non si senti leo ma per fortuna eccoti quanto basso come l'alzare sono a posto i volumi amici forse come al solito era appena entrato e non non l'ha preso ci metteva tanto a connettersi può darsi allora io voglio giocare a shiv o no vai già mostra la tua il tuo vegara di curry sarà finita di curry chi è artio perfetto è tornato il secondo motivo che mi riesce a far vedere questa bistecca vegana di gioco bistecca vegana qualcuno ha già parlato di bistecca vegana qualcuno ragazzi ha già parlato di hamburger vegetali io l'ho mangiato una bucchia ha fatto uno stream of consciousness assurdo su quella roba là no lascia stare erano sbagliati io sono sicuro che siano buoni ma quelli che ho comprato io erano veramente schifosi non c'ho la cucina non ci riesco a entrare perché c'è un puzzo di merda voi non avete idea Luca ma sei sicuro di aver preso quelli che c'hanno ancora un po' di concime vegetale non lo so saranno quelli fatti col tuo concime vegetale cosa ti prendo lì io ragazzi secondo me le ho fatte bene no no cosa devo prendere io bot ah è quello che puoi grazie Lio la tua opinione è molto utile misfortune 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 è un champion di lol bellissimo che se andate su PGG action dice che è rip perché ovviamente non c'è ancora delle statistiche quindi sembra che sì ho visto ma tanto tanto si resta quindi c'è problema non si resta da solo quindi le bet le facciamo volete fare delle bet adesso le facciamo un attimo che voglio chiedere una cosa Luca dovresti provare il rebel burger si no ma la cosa che mi piaceva era cucinarmelo da me però probabilmente no ho preso qualcosa che non era sbagliato non voglio sapere cosa cioè ne ho cucinati due uno l'ho mangiato il secondo l'ho dovuto buttare non ce la facevo più sto facendo le bette betta betta tanto Alice vai Fiora ma io non sono capace di usare Fiora ma la devi imparare però se la vuoi giocare sì ma ho anche le belle skin io io su mid se contro Kale in early la scoppi sì ma in late invece lei mi fa ciao sapevi cosa potevi prendere no avviato ragazzi avete due minuti due minuti per rispondere posso votare che si perde no abbiamo beh no perché non sono quelle le due cose ciao Simfi ciao Simfi allora CS cosa vuol dire farm minion ma ovvio che no ti carierò in altro modo tranquillo ho il dark harvest anch'io bene parto anche di dark seal Marco e non scherzo però in senso Genkami sì bravo te hai visto chi sono sì sai che devo aspettare io vuoi la gang goddess la star guardian l'arcade la crime city la natalizia sentilo che c'è tutte no però queste sì la crime city anzi no la star guardian la star guardian questa croma qua è bellissima no confondo la crime city con la con la cosa come si chiama con la secret agent quando hanno messo le skin arcano maggiore che ce n'è una di xerat stupenda scusate è quella che hanno messo anche tanken c'è luce l'arcana sì è vero quella di xerat è stupenda è umano Simfi ha puntato 5.000 punti sul sì Luca vedi un po' tu devi sapere Simfi che Luca non sa farmare con i con i mage è perché questo è farmare con i mage più di te e anche Artyom ma ragazzi ma siete fuori che cosa mi aspettavo fosse molto più io non spero mai 100 di fare voglio sognare va bene li perderete tutti ma se facciamo remake vince il no ovviamente vince il sì a prescindere remake perché non sai come si è svolta la partita quindi potrebbe essere potrei averla vinta no se c'è remake se non lo ha la bet eravamo ironici Marco io no l'ho notato guarda squisi con le skin non prestigio io ho un sacco di skin di fiora tantissimo però non lo so usare ma non c'era la fiora prestigio belva lunare è prestigio io ce l'ho è il pazzo che ho farmato la notte per prenderla sì sì me lo ricordo ce l'ho pure io con l'Alessandro ma io che cazzo me ne ho fatto già mettere su questa non ha senso perché non lo so usare oh poveracci me due ok Darkseal e via che bella che bella quella skin è quella nuova di chi di te sì che è nuova di un bel po' di patch fa però sì è l'ultimo scelare di shivano ok sì perché non l'avevo mai vista quindi considera che la settimana dopo che è uscito l'ho trovata in una cesta a caso come io quando trovai in una sfera del coso di eh sì del pass pure io del pass trovai la skin gest real del pass quella accademia che è leggendaria viene il senso io ho trovato una cosa che piace tanto a gemo una certa serafina il cazzo ah no ma ma poveroggio serafina pecca ma perché poveroggio ma scusami dove c'è il problema però vedi non c'è non cazzo io detta così è con chi vogliono rubarcelo ci vogliono rubare marco a quanto pare ma sti gran cacchi oh eh no basta basta non sapevo che stavi lanciando no 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 ma non è quello l'ho fatto insomma me ne vado poi balliamo c'è di che faccio il ma bella colitta 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 ma bella colitta ah lì ho mi sembra mi sembra troppo no ma attacca perdono muoviti rossa perdono non so quello che ho fatto ho fatto io però occhio che il loro charler è scattato da top ok mi sa che allora gli lascio la mia roba se vuoi c'è la no 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 la porta no no tranquilla vediamo mi dicono ci gioca sul tempio del cazzo no e questa è un'amicizia nuova pace si posa perdono non mi ricordo di prendere tanti questi danni con la buona shiv oh mi sta sai buono v e Yasugo alla fine l'ha preso davvero l'versione si ma non ero l'errore se parto se parto dark harvest parto full full dark poi contro di Yasugo dovrei saperci giocare contro salto oggi Marco ho finito la prima season di di cosa di foodworks la prima non hai già vista la prima scusami le sto riguardando dall'inizio per vederle tutte però la quinta è davvero davvero una merda le altre apprezzabili io non ho mana qui mid che palle ormai ho perso il trade lol va bene se questo continuo è l'uccidura lui non troppo però va bene è botte in teoria quindi non dovrà avere problemi oh ha preso un colpo di sword però che finisco lo scatto non ci sono sempre in movimento Marco e Luca contro si si ecco con Serhat c'è un problema però si ma ci so giocare contro Yasuo comunque e anzi è divertente perché vedi questi Yasuo l'ho rallentato però tanto è più veloce di me avessi il mana per una per prendere il dark harvest eh ora c'ho il mana io dovrei potermelo fare tutto adesso io beh no è ancora qui eh pensavo però mi si è cavordato eh no ma a sto punto rimango per la mia pure flashato a caso cazzo non mi salvo non mi salvo non ti salvi non ci ho provato con tutto ciò che avevo eh perché non ero umana devo andarmene ma cazzo ho voluto rimanere troppo comunque ho più farming di gemo ora abbiamo pari farming asco che culo ma perché non riesco a prendere una eh senza autoplane si hai più farm di chi scusami eh ormai hai preso una web in più prima ce l'avevo io eh lì ho ah merda non posso andare top la sto solo zonando lascia perdere di certo top non ci posso andare quella non mi può uccidere si ma c'è l'altro c'è bongo stray dog che cazzo è bongo stray dog eh ho capito ma non c'è eh lo so ma adesso torna ma che cazzo ha urca puttana vediamo un po' se si incontra un certo king è qui qui da me qui da me c'è una parte che andrebbe no ok far un c'ha 33 34 però lì c'è pure una kill si 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 no rimani 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 marco vediamo se ci sono i vabbè eh se rimane se c'eri si uccideva attento perché c'è cosa volevo prendere il dark harvest e vabbè è morto fanculo eh volo riparli per lo scudo del cavolo per dare una mano a te ma niente non ci facciamo stare più dietro perfetto che cazzo fa impazzito nice rip vabbè 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 perché mi si è fermato l'omino avevo cliccato su minion eh ma son morto si brava l'iscia oh perché ho flashato ho sbagliato vabbè peccato ok ma ho sbagliato la cù va bene io potrei fare una visita in the bot lane to fast for polizia ho perso tutto marco occhio c'è snorlax è consegnato no vado non è mio vero a differenza di futura ah ok di cosa parla un attimo prima di andare a bot mi devo fare mister red eh vabbè sono morto come la elia è passata vabbè adesso è per il carry luca dai dammi tempo devo scalare perché invece jasuo non scala sì effettivamente siamo due che scadiamo mid lui però in early è molto più forte palle azz 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 sto di asso comunque è veloce è bello bot eh però tu hai preso un shutdown arrivo andiamoce no siamo due viz eh cazzo ma ah ma io lì o dove eri? perché se no dove eri? eh io sono morto ah pensavo ci fossi per questo non è rimasto ah giusto devono fare questo e poi quello che si utilizzava quante vita così poca non ho neanche mano ancora avevi minion eh siamo leggermente tonati occhio questo è quello che è hyperfed cazzo ma è 4-1-0 eh sì 4-2 perché non mi partono le mosse? quanto ho usato la doppia puio? in setup ma cazzo l'ho tirata male quella quella doppia v andrà a fermare a me la differenza di Kingiao mi scalo Kingiao oh finalmente lo smite è fan service sì sì ma sai per quello che è divertente uno non lo guarda perché in anime serie lo guarda per ride esatto oh inizio a fargli danno sai che prima c'ho veramente una voglia di farmi una partita a Pokémon Unite per questo valdeggio ma quando giochi magari la sera tardi dimmelo Marco sì ma anch'io Unite io c'ho sempre voglia manca Yasuo manca Yasuo non ho i gadget eh io ho paura è andato verso la toppe comunque Yasuo quindi potrebbe qua non c'ho la la cosa la pianta porco cazzo lo stronzo lì ci provo a fare qualcosa non so cosa ah vabbè ah io ho la ulti però buono è tornato è tornato Yasuo ok l'ho fatto con lo scudino del cazzo oh cristo che danni let's go muore che mi aveva estirato tantissimo eh io ho fatto la e poi siamo arrivati i primi dieci minuti perché c'ho qui c'ho qui la cosa la support è perché è perché noi eravamo un po' non c'eravamo quanto l'ho cosa non posso farne eh ci ho sperato nel mio un bloc va brava pusha pusha pushala pushala brava ma si ma no cazzo devo fare la W ma vabbè manca ancora ecco la seraphin e vabbè no se vivi si si lo so però nel senso come il cazzo l'ho l'ho fighto questo ma la in realtà penso che mi esploda anche perché c'ha pure l'issteel con la cosa no Luca te dati te dati e ho la ulti ti copro con la ulti no vapa ha flashato vabbè va bene va bene va qua vi devo fare i calzari però prima di chiudere il luden perché se no sono troppo fermo beh eh l'ho visto infatti ho fatto non farti domande Luca farm e basta io provo a fare la pazzia folle la cosa bella è che lo sto facendo tanto c'è Alice che è pushata quindi in teoria la cosa bella è che effettivamente mi sto mettendo a farmare basta ma stavo dicendo muore se riesci a uccidere tutto tanto meglio vabbè vabbè buona buona gli abbiamo preso gli heal riuscissi a colpire il cazzo di occhio abbiamo preso l'ulti di serafi uuuh ce li quasi è peccato era bella ragazzi io faccio gli op e vado in base dai ragazzi Luca è 100 alla fine della cosa ma ho fatto vabbè ciao Kiral immaginavo che stesse arrivando cioè quella lì è rimancato era telefonatissima però eh ma non potevamo c'eravamo già troppo troppo in avanti anzi che abbiamo ucciso lei il drago mi sa che no non potevamo pulire la wave 57 secondi no 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 per forza lasciare di poi sì 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 ho sbagliato io basta restare che palle studioso e bravo bravo ma non mi aveva preso o così la ultima lì ok stanno andando al drago anzi lo so ma non ci ho fatto il drago no ci ho provato per un secondo dove sono chiamato qua chiamato nostra giungla bassa mi son caccato sotto e questi quattro draghi sarebbero belli per per chiunque per il jungle dif esatto mi sta veramente distruggendo xin ciao xin ciao farvi tre che torna indietro ah c'è il mana questo è il puleno io sto provando a scendere ma in realtà ve la state cavando molto bene ma non mi ha chiamato io ho impazzito quel coso e vabbè mi si è teleportato addosso palle c'era xin mi sei inculato veramente tutta la jungle bot sotto fida androcchia guarda c'è stancazzo eh si ti ho detto c'era di aso si ma mi ha ancora da king una ward qua e same fine si ma la metto up the shadow no 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 c'è l'herald ce l'ho su te non c'ho più le ward ok 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 no credi vorrei si mette quelle normali era un attimo può essere che Luca ci arriva veramente 150 è la sfida ah 150 non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ciao zap ciao zap ciao zap ho sentito che devo skillare per ucciderli perché non posso avvicinarmi si vabbè quanto ci metti in 10 secondi oh bella Marco eh vabbè l'ho mancato io però io beh ha preso entrambi ma è bed li partono le mosse no è stato bravo lui ma questo caso è bravo te l'ho detto peraltro sa sempre quando usare il cielo ma non potevo ok la torre mi cade dai non raccattara papà iram ciao top dice che non ancora eh no si ma credi credi si ma ci posso fare ma devo farmare basta davvero gli alimenti 5 ma non ti salvino un culli al cazzo mi sa per scadere l'herald giocalo secondo me bot stanno ricollando proviamoci è l'unica non uccita un po' no cazzo l'avrei uccisa ha ultato comunque lei c'è ex pensavo la prendiamo tutta sì sì no la prima è già andata giù c'è Yasuo che sale sta a far cosa eh no non fa male perché stavo mi stavo portando il range di ulti se si incaggiavano squirmam l'hanno l'hanno ignorata è senza ulti però io sono senza mano che serve finna a me non ci sono va bene porco cazzo ma sarebbe carino dirlo occhio ma si è spinto che mancava io so non riuscito se lo guardo al pelo sì 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 eh però fa il drago ah no no quanti secondi no no pensavo mi sta inseguendo perché altro eh no era entrato nel pit eh sì perché voleva fare W attraverso il pit per cosa oddio stanno arrivando io ci sono ok eccomi ecco qua forward no 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 l'ho ma si l'avevo visto rovincio c'è tanti ne sto 20 di roba o la ulti e la carica ma si sono il drago ho provato merda ci mancava poco dai io sono senza manna no si esatto dove sei Luca eh mi si è glitchato nei movimenti che cazzo mi ha fatto un giro stronzo no il problema è che xingio è troppo forte è troppo più forte di shivana punto non posso niente fare niente lol eh la q è partito uguale buono gian corri 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 non muore uguale ma mi sfortune con la quella col crack o ho guardato e così si builda non è lo meglio comunque il gale forse in sta partita in generale attento attento qua credo scappa 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 con pane ah l'eralda va bene arrivo mid out 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 c'è il cadavro di coco guardate bellino auto top vai te top ok bravissima seraphin gg non prendermi quei min marco c'era c'era pure seraphin dietro ip di kyle ricordati che non ha la ulti chi kyle ah infatti l'avete scoppiata lì c'è vabbè oh qualche altro award se le mobilizia è morta eh kogmo quanto danno kogmo vengo arrivo di te veniamo cioè io devo passare dalla torre ci metto un po' c'è anche xin stiamo arrivando tutti sopra si ah non mi ha colpito non so che giro sto facendo infatti mi ha cambiato strada a un certo punto intanto giamo che te distrugge xin non ha colto xin che mi distrugge quanto seraphin foggo ragazzi hanno perduto un sacco di guismina io torni dietro via 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 damocle 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 io perchè ho visto lui pronto ad arrivare no la mia non ci arrivava preso attenti oh doppia non avevo mai visto eccolo bravo ma ma bravo cosa ma bravo cosa alice uccideva tutti ha fatto tripla si luca l'ha assitata però guarda che sono usciteva Yasuo era la fine ma io avevo il perry si lo uccideva perchè che cosa ma che cazzo ma luca sei veramente un mostro di merda vieni direttamente dal boy tu vieni ma la cosa è che voleva aiutare giù non ci non le dico nulla io ho sbagliato ragazzi ho sbagliato ho sbagliato ti reporto alle nazioni unite pensavo ci fossero dei minion vabbè dovreste fermarlo l'hai visto anche te il coso che ti sei teletrasportato vero cosa che ti sei teletrasportato questo era venuto fin qua ed è comparso qua no io non l'ho non l'ho visto io l'ho visto morire e basta vabbè ma che vorrebbe una minchia cioè dov'era dov'era è morto insomma e vabbè grazie il cavolo ma prima ti sei teletrasportato ah prima non lo so no l'avevo creato io e poi è andato a te non serve una minchia si dai gliene manca i pochi eh lo so persone di brutta fede quello lo lascio libero di brutta fede si mi è uscito male di mala fede poca fede in realtà si vabbè anche brutta fede non esiste lo so mi è venuto quello però che è successo mamma mia Gianco non ne hai presa una pagliata oddio lì c'è impazzita ma come impazzita seguitemi stronzi sì sì ti sto seguendo dai no dai no è arrivata Kyle oddio che cura è fatto non riesce ad entrare Luca si dà ah Luca ah ma cazzo ma è vivo Leonello credo fosse morti tutti ci sono ci sono vai su Xe'n non su cosa vai Luca per piacere quella è ah fallina eh non non mi aspettavo facesse quel side step lì quel flash in lì era fare il printing fallina speravo di avere le skill ma non comunque non flash in è ora questo gesto se avessi avuto l'acqua subito l'avrei ucciso questi son cazzi io so già su chi finirà il mio tasto report tutto da botta Kyle che so davvero tant'ignor anche con la build porca miseria ma te shotti minion che cazzo ah no ok aspetta il colpo della torre prima sono abbastanza sicuro di averti visto shottare dei minion comunque si chiama farm no ma prima hai shottato dei minion ne sono sicuro o hai critato tipo su tutti i minion no probabilmente l'ho critato magari col no guarda li uccido direttamente i caster mi ha mi ha distrutto Kogmo ma ok mi ha letteralmente distrutto vabbè vendicato Kogmo te sei entrata col parry su Kogmo non ti conviene ah no non è vero sei entrata col parry sul serafin sul serafin si 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 serafin ha effettivamente abilità tiriamo dritti sulla torre seconda gli aso gli tolgo lo scudo fatti i suoi no per pochissimo che buono stai arrivando ciao ciao ulti eh sì bella zonia io devo andare top ragazzi eh what the fuck no non avevo la passiva sono un cretino cioè ce l'avevo già applicata su di lui non so quale sia la sua passiva la passiva di misforzo ma io a lei faccio danni però è la prima volta che colpisci cioè ogni volta che cambi target il primo colpo fa un danno danni in più fa 233 danni in più sì abbastanza su mi raggiungi deficiente raggiungi me toc c'è il c'è il bar ok però flancare che attenzione che faccia cosa no secondo me difendiamo la torre io non ho mana devo per carla io ci sono l'ultima cioè già tanto se riusciamo a difendere la torre ok no c'è Marco che fa cose sì no era solamente per zonare ok io becco o faccio il in realtà dovrei chiudere il libro perché ha 40 anni di stun no io non vi ho nemmeno il range di ulti calcolate ma what the fuck perché sono tutti full vita di nuovo serafin ma serafin era lontanissima è questo probabilmente cioè xin era full vita non ho capito come o sei curato sui minion in giungla probabile un po' trad vado giù se vuole push a retna side scappa 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 compane alba hanno fatto il baron questa è la fine bella giocata lei ma no anche kyle ma kyle era in lane 5 e 4 no no non era lane marco tutto 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 la mia vita è tutta no l'ho vista scendere poi vabbè si ti sei curato no non mi son curato Luca non mi hanno fatto danno ho visto la vita di qualcuno scendere e non era la mia è pazzo è pazzo volare volare oh 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 questo è ancora no orca puttana oddio forse lei nella faccia in realtà ma non ero in range di ulti di Carla è arrivata è arrivata al 16 ma infatti no non è più fai tavile per me era senza mana però effettivamente anche il baron il baron e il quarto drago e il quarto drago si si è tutto ragazzi mi mancano no 18 eh lo so appunto per quello sto prendendo Minions un milo sorrendiamo? certo ah se sorrendate non conta come no perché no 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 se ci sorrendiamo non conta non conta avete perso i vostri soldi persone di poca pere sì ho perso i 10 perché ho sbagliato no io avevo messo 6.000 ah godo godo ma credo che per qualche motivo me l'abbia messo i 10 oddio mio è questa dove cazzo è uscita fuori perché non time out i zelnet ogni volta ma perché zel c'è pochissimo in live ho preso il carretto pur di morire 137 però adesso finiscono eh sì eh lo so è un problema ma cazzo io davvero può darsi che non respawni prima che finiscono mi chiudo a 137 che cazzo io non respawno chiudono non è possibile f per artio ma è possibile allora non è possibile l'ho detto e gli avversari mi hanno sentito e niente completare il pronostico la colpa è degli avversari e nek c'è molto da fare potevano farla durare un po' di più un libero in table tu riconnetto di League of Legends di anche me io non riesco anche ad aprirlo ok dimmi chi vuoi time outtare te l'ho time outtato io time outtato io va a far culo ora tipo time outtati da solo beh quello anche no mi piace l'io che ha fatto più danni di tutto il team com'è vabbè swain tira una r si mette in mezzo mette in mezzo tonio dirò r a contrario chiaramente non mi si sta riaprendo l'holl in tutto ciò amici abbiamo due posti vi ricordiamo che necessitate di avere il pagaggio della sub per entrare il pagaggio il pagaggio il pagante mentre mentre sceglieti io faccio uno per i miei pip up boh se mi si riapre lol perchè vedo lo vedo molto male chiunque qui a parte me stesso simfi arcadari mi fa caccare al cazzo io non vi vedo in che senso come in che senso non ci vedi ok mi si è marco dire che quella è una regale meriti a parte che luca è uscito nel client perchè mi era casciato no io ti vedo aspetta che ti invito vuoi unirti rune se vuoi unirti vieni io ti invito sto morendo di caldo dovessero invitare anche luca io non ti vedo ah si ecco ti adesso ti vedo ciao ragazzi ciao ciao grazie per la partita ciao guarda entra nell'ultima stanza che vedi quella sala d'attesa live ah luca se c'è in chat perchè credevo in lui e luca è la voce maschile che senti oltre a me beh credo lo sappia tanto si può si può bannare anche se non è in chat non ti preoccupare si ma tanto non scrivo quindi nel senso ma è simbolico i'm out basta che poi mi ridate il mod perchè sarebbe un casino però aspetta devi usare i punti per ti amottare eh no lo fa gemmo l'ha scritto per gemmo ah per gemmo ok perfetto vedi è stupido gemmo sei benissimo che finirai nel ok come cazzo ti chiami come cazzo ti chiami non è in chat non posso bannarlo ma si ma metti il nick come ieri è scritto marco no non l'ha scritto io come cazzo si chiama la torfate come mi chiamo marco mi conosci da oh capito ti chiami il canale di luca ti chiami luca man ti chiami piero mi sono te matato due volte va bene non l'avevo visto l'hai te matato ti chiami fini vedi te matto dopo ma c'è su discord rune si 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 adesso entra e ragazzi c'è un altro posto il quinto posto matto aspetta che sto spostando rune runeis e manuele con la propi con il cane eh si sempre quello oramai mi ricordo manco più quello l'ho fatta che ancora stava a formia bel posto formia di pescatori dai amici potremmo parlarne a sto punto anche chi non è sub allora simfi vuoi farti un game ma ragazzi sto veramente schiumando prima c'era staxa russa se voleva anche lui anche staxa che ci gioca anche lui a lol si un po' un caldo di zuccheri tipo se posso certo come ti chiami su lol voglio le bet pure qua mettetele sul fatto se ci sarà jungle difference o no va bene già ci stavo pensando vai mi sorve prediction va bene ma tu hai detto che puoi giocare signor simfi esca il nome simfi è perfetto simfi è giusto gli potete mandare il link al coso discord se arriva vi ringrazione ti ho invitato ti ho mandato la richiesta d'amicizia poi compito se non accettare vai simfi sì lo so non avrei dovuto metterlo vabbè sti cazzi siamo noi e stiamo noi e stiamo noi no c'era zap così in chat sì sì a cazzo duro così c'era quello il fanno inverni vai avviate il pronostico quello l'ho beccato a Torino alla fine del libro quando siamo andati al liceo eccolo simfi invitiamolo ma chi simfi no e siamo noi e siamo noi no è team o dunque pronosticate pronosticate nessuno sta pronosticando perché sanno che ci sarà la jungle duffa simfi qualunque effettivamente è votato per te vabbè ma poi c'è il fatto Luca è che talmente c'è non vuol dire un cazzo esatto esatto diciamo non vuol dire un cazzo nel senso chi sarà più bravo se Marco o il jungler avversario ma hai messo sì o no come risposta Luca no ho messo Marco o il jungler avversario voi vedete sì o no 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 Marco c'è quello avversario io io vado Pikachu ho lì su Marco qualcuno qualcuno ha dato 100.000 punti circa sono 100.000 eh ho visto salire il count tantissimo il count count voglio dire counter ragazzi ok allora mi conviene prendere ecco sorpreso 4 ha votato con 98.000 punti ma no ma no Zapp ma fatti merda la mid avversaria vince da sola allora no chiedo l'avete preso che votando Marco era Marco scarso o era Marco bravo chiedo perché il caso si inverte nel senso soprattutto per Soppi che ha votato 98.000 punti tipo Zapp che credeva che il genre avversario è migliore votando Marco ragazzi siccome io sto morendo di zuccheri arrivo su Marco vince ok allora no rimane Marco rimane Marco vince perché Soppi ha votato 98.000 punti stanno Soppi no sono malissimo Zappo quindi hai votato per Marco sono molto deluso da te Sì un uomo ah mi sa che sta parciando puttarsi sì probabilmente sta parciando vedi Soppi intelligente o semplicemente parliamo così tanto che ormai ci si capisce però nel senso Luca se vinco sono altri due try out ma guarda possiamo anche togliere tra i live per quanto mi riguarda guarda se vinci mi va bene perché hai votato contro Marco ora prendo il mio main e c'è anche la sua statuina che mi dà forza ti ringrazio che te l'abbiamo regalata ti ho già ringraziato lo so proprio ringrazio veramente grazie per i regaloni poi mi sa che c'è anche Emanuele che lui adora ecco 10.000 te adori ecco no io eh sì quando c'ha un bel segnale di divieto sulla faccia perché no perché ce l'avrai in team ok sì no nel senso ci sono se ce l'ho in team lo posso ancora sopportare quando ce l'ho con infine eh stai rapparciando immagino eh ma potrebbe poi il resto tipo su disco all'intanto no allora non mi ricordo perché dovevi si mi metti solitamente nell'ultima stanza possibile la sala l'ultima 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 in fondo c'è stanza attesa live sala sala attesa live sì allora ecco al momento si trova in 25 posizione ma rispetto a cose a chi giungla la ladder della giungla ecco si gioca anche mid vero perché non mi fa partire perché non sono il capo io una volta lo usavo mid ciao ma anche ma io non gioco mid quindi è un po' difficile all'inizio mi pare l'hai imparato no all'inizio era vega sì vega me lo ricordo che quando giocavo io giungla all'inizio poi questo qui arriva e mi ruba il ruolo che è bello ci siamo invertiti i ruoli alla fine perché giustamente simfi dove ti trovi più confident nella squadra avversaria perfetto benissimo e in seconda posizione rispetto a quello tipo vai preferisci support io sono main top però posso andare anche support guarda se vuoi andare mid vado io support anche senza ma sto chiedendo a psimfi e tu ci parli sopra volevo dire top ma allora vado in mid ma non ho capito psimfi ti preferisci support vado io support sì ok la voce bassa è caldissima aiuto sì preferenze che giochi qualcosa in particolare che vuoi un carri vicino no divertiti è diversa chi è il top top laner ora tu gioca quello che sei giocare per cortesia perché non sei nella posizione top laner so giocare veramente tanti e questo è il problema se vuoi ti gioco timo sicuramente beh te lo so giocare io lo che mi metto a piangere non è che ci voglia molto a giocare timo adesso ragazzi andiamo a vedere un attimo la classifica della top laner vi faccio vedere in che posizione è timo spero in fondo guarda non è neanche in classifica questo è il problema meno male mi dici chi è il primo davvero no no è il trentesimo prima è irelia irelia ok seconda è l'amichetta tua fiora allora per winrate in top dal platino in su il primo è zack cassiopeia singed tamkench riven queen maokai kyle e poi a scendere gometier tamkench camille fiora set darius riven sono s più poi c'è come s ce ne sono pure parecchi c'è jacks malphite atrox kyle wukong gare inclindamere in mundo e poi ma io non ho capito quindi come cazzo giocavano lì c'è support no io sono mid io top io vedo che ho contro top e vedo se andare conviene che vada danni magici o fisici cioè fiora io ho scelto io ho scelto perché tu avevi piccato quello lì per cui ok va bene allora ottimo contro allora scegli in base al fatto che hai timo contro mi conviene andare il primo counter di team se ti può interessare chi il nuovo tham cance l'hanno messo non so sare tam in realtà non è troppo difficile no ma non c'era nemmeno era un suggerimento non prendi quello carino ciao devo fare la build però ok ma devo lasciare la build prepariamoci perché mi sa che runesce ci alza il lelo è vero è vero il ruination perché runesce scusa non lo so perché ormai ti ho letto così almeno il nick speravo che nessuno me lo sbagliava rune vabbè ti chiamo rune basta quindi cari a lui cari a lui esatto guarda sono solo gold 1 non è che so chissà che cosa guarda che gold 1 e platino 4 sono gemelli ok fatta la build perfetto guarda platino 4 a challenger il posto è breve oh dio sono sopra il platino 3 non sono mai arrivato sono arrivato due volte platino 3 e poi una volta addirittura sono ritroppato gold dominate chi ha il tipo con maestria 5 cazzo maestria 5 porca miseria ma io ho 41.000 punti e basta ho nautilus mid per quale motivo guarda che forte nautilus mid no no ma guarda i punti poi non vi preoccupate io ne ho di più sì ma te dovrei girare un po' fra top e mid mi sa anche perché io pensavo di fare un gank pazzo mid con si si ok molto sicuro l'ho vista ok no no va bene se vuoi più che altro per master it diventi un gank facilissimo al 6 w quindi sblocco q w e mi conviene perché così appena arriva stan il mondo nuovo sa che non l'ho mai giocato ed è stato il secondo champion che ho giocato quando inizi a giocare nel 2016 in realtà perché c'è una musica molto più epica del solito eh da un po' che c'è questa musichetta io non la sento perché la musichetta di ecco sarà per l'evento ok ora vi faccio vedere come si fa yeee c'ho anche i miei amichetti sì è vero che c'è quella che fai ooooh è quel il meme oh attenzione intanto ci senti a emotare lascia una word lì e non siamai fanno il giro c'è Sivir qua perché è l'unica con gli oggetti no tanto bello pantheon mid l'ho iniziato a giocare anch'io sotto consiglio di un certo soppressa ricordati che con la epa si è attraverso il muretto di vegara è da un po' che volevo no no non ascoltarlo ma è ovvio che non sia vero però è Luca lo scemo che ci casca beh in realtà no perché se ci passavi davanti ci ho pensato che potessi passare e poi me l'hai detto in un momento in cui ero in fight quindi nel senso non è che ci ho pensato lì sul momento fatto sei piaciato tanti di quegli schiaffi tanti ero morti uguali a quel punto manca Timo quindi credo il leash top no è quando Iona dov'è Iona? ah no all'ignite stanno qua nel cespuglio e io sono morto all'ignite sto stranzo mamma mia Luca ma sei veramente una sega immonda che cazzo ci faccio ce l'ho dietro e mi fa più danno di quanto io mi muovo però l'ho quasi ucciso infatti se ne va vabbè prendo tutto il farming tutto quel danno te l'ha fatto una tua andata e ritorno no sono andato se vi fa un po' più di danno eh si si Alice fuggi ma non lasciami stare scusi non parlerò più 2 2 6 questi ci camminano in touch ma stai restando top si ho visto ancora se vi è dark harvest si ok ok ognuno dei party prob ok bene la stacca di dark harvest me lo soffiato pure io grazie quell'audilus è veramente veramente molto succulente ma è ferma qua eh ma proprio ha guardato là ok ho preso il flash anche il dark harvest che io i champion d'averli proprio non riesco a giocare ok ho usato il flash si becca se vuoi Timo ha poca vita eh ma lui in alto diventa invisibile cosa faccio qua 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 Marco è qui eh Luca sono morto eh che ci posso far non ho capito perché sia passato di là io no no lui Timo non ho capito il giro che ha fatto di far tutto così invece di pushare perché ho un pingato la base non sto capendo sto Timo come gioca ma il cosa il PTA il PTA se volevi cosa Timo ha il PTA andratti andratti ah si no no si boh non ho idea no no il carretto guardate appena fai il sello scoppi Timo si si lo so è il problema arrivarci senza fidarlo troppo perché sto coso è stronzo fanculo no eh non pensavo se la parasse con lo scudo non ho messo la W eh niente non le passa ho usato l'exhaust non lo so mi pare di si su di te forse nooo peccato lei ha flashato sicuro quindi ah si si vi era flashato masserino dark harvest no no la W avevo il cooldown GG mi dimentico che ha pochissimo range la W mia sto scendendo eh però cazzo sono lontano non ho niente pensavo attaccassi su ma è questo è più vicino non ero top però li resta pazzissimo ma si non ce la fai fartela non sapevo che cazzo sta timo GG che è loro ah è vero è ma è stato qua finora ma frizzarmela tipo almeno no non c'ho pensato anche perché non so frizzare ovviamente lui entra dove sono ma che cazzo ah no uscia coraggiosi se non c'è una flash si se vuoi cammino in faccia ah appena appena ho il giallo perenne lo scoppio eh niente accusato oh merda i danni ok eh potremmo anche fare il cosa il drey eh si mi posso pushare o vi servo vabbè push push c'è masterì c'è masterì se viene a dare una mano certo arriva anche anche nautica no nautica scendi giù scendi giù ne vado sì penso di sì a me un mignone mancava la ulti arriva 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 buono buono bello ok adesso l'ulti è il nostro gg gg che drago era oceano sì ok ah muoio no sì no la bruciazione sì sì night eh sono ancora molto poco confident non ho usato la q che cazzo il tempo mi dispiace non devo becca troppi soldi poi se vuoi venire da sto timo mi devo farmarlo caso ok tranquillo voi lo scendere se c'è una cosa che odio è timo ho letteralmente l'intera jungla mi faccio tutta la via già giù da giù a su sì ma il fatto è che se mi riesco avvicinare lo scoppio il problema è che è timo non mi avvicino basta che viti la q e sei a posto sì sì lo so q w e te clienti dovrai iniziare a uccidere ma mi acceca ero pronto a curarti mi scoppio non mi è servito manca oh oh ok ti lascio mi vado sì sì a caso bonk oh donna che danni che fa sta arrivando oh sono i piccioni ok ok è intato ne è intato no non ha intato no fa troppo danno come si fa che palle i funghi il fatto è che essendo full ap fa solo quello poi cioè esplode ma non so che di cc eh lo so infatti sto ritrando il te è qua da me adesso eh ho la ultima eh ma tanto il problema rimane sempre timo timo è qua ha piaccato un fungo nel bush di mezzo oh dovrebbero bannare almeno l'una c'è sì arrivo no peccato non l'ho visto se no venivo c'era arrivando timo attento ah eh vabbè se non corriono me lo metto male no no lascialo peccato bella però io non ho il mana per la ulti devo peccare c'è il tp in casa scendono con te alicia oh no no via via ah ma si da credo che mi si avrebbe beccato quindi forse c'è da farmare ah ho sbagliato io qua no problem c'è timo qui ma davo che danno ovviamente aveva il fungo mi stanno out si 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 da me da me no io non posso fare nulla contro timo zero non anche se lo stanno è ma vicino mi annulla i danni dei corpo a corpo quindi la eva puttanne timo non l'uccido che vuoi da pantheon no vabbè ma non è vero sarmo arriva 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 anche io no non lo vedo non c'è timo in top potrebbe arrivare anche lui ma porca mignota ma se ricche il mutolo di coglione grazie che culo è abbastanza c'è una ward là bravo gg comunque per la rotation sono te si molto buona sai mega concentrati gg eh qua di nuovo drago in 17 ma baffo anche uno si si assi più giorgio no un pericolo ho fatto un errore ragazzi eh non ho lo smite c'è smettato il giorgio per rompergli lo scudo pensare di avere due cariche però c'è tra poco tra 30 secondi punti in 24 direi che lo wardiamo io vado un attimo back prendo un altro oggetto ricarico il mana e poi proviamo a contestarlo grazie il nostro botone è fortissimo ma se ri attenti non è wardato qua oh cavolo cazzo timo 8 secondi era ulti mi sono già senza l'interno di essere ottimo sto arrivando lì faccio di colpa ah vabbè ma questo mastery ce la fa? ok guarda come gg ha il buon brand simfi poi me lo diritti la robot può salire l'unica cosa io l'ho wiki non penso lo faccio sinceramente non ti dicono niente anche perché al massimo li blocco io io qui ci ho timo con metà vita se qualcuno vuole sto dragando arrivo io intanto sto timo sta giocando stragressivo su di me mi vede mi ha visto no se n'è andato si ok in bottele ci sono più penso che siano andati back semplicemente o l'ho preso ma che è sta il build di Sivir Donald ma dove è Donald che build sta facendo Sivir è partita di Manamune no con Sivir si parte di Manamune sì Sivir per me la Manamune se la fa chiunque sì però ti chiudi prima l'altro oggetto poi la goccia no non per forza dipende quanto si è messo di goccia ora effettivamente non avendola completa no gli conveniva chiudere l'altro oggetto eh appunto quello di Amore ti ha ucciso poi ma l'ho spedetto io con l'oggetto è difficilissimo che che c'è la sì no infatti a me è capitato una volta su tutte le volte ma non è vero mai comunque che ti aveva preso ma cazzo l'ha preso ce ne ha meno di piedi cariche poi lo dico non vale curva nei cose di quelli non va ma pure a me prima mi ha preso mentre ero lontanissimo di aver fatto l'E però dietro l'angolino non valeva vabbè che bella skin grazie non te grazie si birra cioè la tua la conosco però tanto non mi frega nulla di Erco oh peccato c'è di Leona lo uso a condono manca Teemo non è vero Teemo è qua sto salendo bella culo ma non tradarlo aspettami pazzo mi uccide tanto ma mi uccide ma non dovresti non devi tradarlo se ti uccide ma anche se vado indietro è più veloce di me in tutto gg Marco grazie devo bannare Teemo ma no bannare Teemo è inutile troppo non lo so giocato contro Teemo non riesco a non ci trovo un'utilità io non faccio danno a questo stronzetto per cui ora sto scendendo c'è Dario un attimo che vedo se c'è Giorgio oddio in realtà c'è Giorgio che è maggiore c'ho l'ulti se vuoi abbiamo due smite quanto fai di danno? 1073 e calcula ce l'ho all'uno c'è l'ulti c'ho un utilizzo di ulti quindi mi serve mangiare roba mi sa che ho guardato ma non posso toglierlo vabbè tanto c'ho lo smite più potente Alice non serve una mano qui si c'è anche mi stanno uccidendo targettano me vaffanculo bella marca hanno anche fatto bene hanno ucciso me subito che palle però volevo giocare dove l'idea mancano no no te lo riesci a fare team in 1v1 si c'è se it la w è meglio oh lord lol arriva ho anche il flash se serve tanto vabbè non tu riesce ma sta sì sì lo so infatti io sto rimanendo indietro sperando di non morire eh mi ha fatto troppo il veleno il mi ha ucciso con i funghi c'è Andy tringhette rosso Luca sì sì è che ancora non l'hai preso eh me lo dimentico ogni back ho preso il rosso sì me lo continuo a ripetere e poi me lo dimentico quando muovi chi ha fatto la maschera questo stronzone non so cosa stia facendo quel masterier eh voleva però raffermare la cavalcata dell'herald eh sì vengo vengo mid su di lui intanto li faccio ho l'ulti up quindi se lo mandiamo di vita missa gg anche l'herald che si è fatto quasi tutto il top non c'è non c'è non c'è non c'è no ero io con il volume altissimo come Dado comunque solo io zappo invece di Dado ho letto un bestemmione fortissimo hai letteralmente missato la qui sul cosa possiamo derivarla questo non ti risponderò marco aspetta 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 luca luca è tanto ha visto lui ah perché ti dici che ancora solo lui come come è rimasta lì non ha affatto ma perché vada va bene io non lo so voleva di aspettare un solutino ce l'avamo noi tutti lì tipo dai la davvero arrivava non lo so aspettavate un altro po' il c'è che c'è ma io non la vedeva era fuori visione non so non c'è non c'è io considero ero sicuro fosse qua anch'io credo fosse avanti non hai smettato chi se il leone io so l'ho smettato male in realtà ah ok ce l'ho anch'io tipo intanto si è pushato la top credo ok flash c'ha questa ogni due secondi flash la cooldown la usata a 14 e stiamo a 19 mamma mia ho sbagliato ho potenziato e c'è timo qui sono morto mi ha immobilizzato nautilus va bene io ho quasi 4000 gold forse è il caso che becchi timo e mid ma what the fuck c'è timo qua va bene vatemi beccare sono su nautilus io sto così dovevo comprare un botto di roba oh leona ma scema ok no io quel timo non ce la faccio l'ho fidato ma non è basta eh ma non ci so non ci so proprio giocare abbiamo voto delle jungler che vince non ci vorrei fare sì sì lo so infatti marco deve andare su quel timo io a timo gli faccio e proto e già muore ma in realtà anch'io se riesco avvicinarmi e ultarlo gli faccio un botto di vita il problema è che non mi ci avvicino quando quando si si no ma è uguale mi fa troppo danno prima semplicemente cerchiamo sti funghetti funghetti io lo botto con la ultia lo botto cioè allora non ho flash se vuoi io vedo di buttare giù la middled middled sono ancora in range però no c'è timo nevermind no sono l'ulti si timo e nautilus bonk ciao vabbè fate robbys allora e la botto non è città no esplodete per quel timo c'ho l'ier c'ho l'ier c'ho l'ier io almi l'ontrato ero dopo lontano no no ti ha elato ti ha fatto tutto il danno però no io ho zonato no oh scusami no c'ha l'ignite ma si l'ignite cosa si e marcio chi è l'ignite mi ero salvato ho detto guarda c'era anche timo se vuoi sapere si vabbè ma da timo me lo posso aspettare da navi l'oscurio ragazzi comunque è timo full ap con l'uden tempest e il pta ti posso dire che all'inizio quel pta ha fatto un botto di danni effettivamente ha fatto mille danni ne penso solo a te no all'inizio grazie a quel pta mi ha ucciso perché mi ha con attacco sostenuto mi ha fatto un botto di danni di attacchi prendiamo un amico dai e poi vabbè io con avevo la la e che ultipotenziata ma quelli dei nuovi bot stanno la corretta la vogliono proprio posso ultare posso ultare sto arrivando da te io ovviamente ritorniamo ok tanto c'è timo oddio io questa chimica la butto giù io non vabbè no vabbè che cazzo ha fatto quel nautilus muore holy moly macarone quanto ci ha messo a morire però vuoi che stavo curando vabbè doppia di mastrino ma si è 3-8 più non ci credo non ho l'ultimo perché mi consiglia di fare lo spirito cosmico se non c'ho i 160 di potere magico ha ultato pure mastri da ma che buccio di culo 2 vabbè credo lo prendi gg drago in 13 arrivo c'ho lo smite rispy cam ma ho letto adesso ma stai impazzuto dato ragazzi mica avevo letto è mio F F F se si dire giù posso provare a si conto 1114 smito io Marco vai che almeno hanno tira giù la chiudo io se vuoi circonferenza cappellone di 3 cm hello non c'ha ah oh ho ciccato giro giro tondo colpa mia ho presa io si niente 800 gold ti ho dato davvero eh si si è meno andata di 50 oh oh guarda qua dice master si si sarei andata sarei andata dovrei averlo fatto esplodere però e niente io ogni cosa che scrive zap penso sia una bestemmia ho guardato si ho guardato qua guarda che bravo zap che mi lascia i soldi delle ward andiamo andiamo a meno a questo ma ci abbiamo 4 draghi non c'è un col difference chi ti ha dato fiducia soppi ha vinto un sacco di punti si ma un po' tutti perché mi sa che tutti hanno guardato per me sapevano una mano mid una mano mid arrivo 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 subito ho sbagliato il gelo per n perché non la uso quasi mai l'hai rifatto nuovamente all'indietro? no 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 l'ho semplicemente mancato oh oh grazie non dovevo tornare io intanto Marco ma ha mancato la ulti quella leona bonk mazza che danni la mia passiva porca miseria qual è il terzo colpo la tua passiva ma che range allo stanno non riesco a colpire abbastanza il 12 no il 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 pochissimo di pantheon è veramente pochissimo da doppiav si scusa non so che non mi ricordo lo rivedersi è pochissimo mi piaccia una v ah no vabbè ci sono i minion posso tipare su quelli al limite quindi nessuno vince noi ho visto che appunto nessuno appunto sul perdente io non ho ancora capito come cazzo funziona nel sistema di votazione c'è chi cioè se se la jungle differa dalla mia parte è il sì sì no ma quello che intende era il marco ma quello che intende lui è che siccome nessuno aveva votato l'altro jungler mi sa che non nessuno vince nulla no non l'ho preso col silence pff marco la voglio mangiare no mangio il carretto nam 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 ma devi beccare adesso io ho finito il mana e ho 3.500 gold quindi direi che molto bene ah sì ognuno si riprende pochi soldi faccio il grump è veloce a beccare che arrivano vuoi farlo tu questo? mi servono 65 gold vai 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 io mi sono fatto questo ma per quale motivo esattamente? a me sta oh che palle guarda se devo morire per un fungo di timo eh perché mi ha rallentato non perché mi fa danno anche se mi fa danno beh non hai neanche un po' di magic crisis quindi un po' di danno te lo farà sempre eh no lo so uguale davvero si fa il puro giallo su cosa? su ciò ciò che ha fatto sì però è più la build da mid quella niente sì niente si fa qualcosa dopo si fa con il frostfire può darsi che abbiamo si chiamato ah sì 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 ho sbagliato ho preso la mia non mi guarda come si chiama tanto non è che cambiava nulla contro sto struttiva pensavo il quanto si faceva il quanto come si chiama il quanto mi piace il frostfire sì 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 quello dovevo fare famosa in baron dai tanto ci abbiamo lo smite potenziale ma oltre lo smite nel senso cioè se provano a faitarci la loro fina io la ulti solo ogni 26 secondi quindi magari porco cazzo io ogni 34 sta build è troppo bella comunque fa un danno della madonna ed è pure piena di utili ma adesso si gioca assolutamente così no? sì praticamente sì cioè lo vuoi giocare anche a un hit ma vaffanculo l'ho sprendato nooo va bene amici grazie di avermi carriato jungle div sì sì ora diamo tutti i punti a quelli e altri a chi ha votato contro Marco però mio gg se lo prende psinti con le sue rotazioni pazze anch'io mio gg avarus sicuramente non darò il gg al jungle sì comunque è vero nessuno ha comunque varro sarà più danno di me quindi niente nessuno vince oh ho una capsula campione sono aumentato ho vinto ho vinto lo spazio che di danni ne ho fatti bravi mi sa che si finisce qua che sono i 23 i 23 e i 23 io non ho più qualità di come funzioni i panther avete nominato prima thump cance l'ho trovato in una capsula campione gg la trottola grazie di aver giocato con noi amici che bello noi ci vediamo domani che è giovedì boh non mi ricordo se c'è qualcosa io pomeridiana con il dlc di legion watch talk di legion c'è luca pomeridiana con il dlc tre fondamenti di chiave non l'ho vista hai ragione ho beato te no guarda ne ho serie dice adesso di chiavi io se forse eri zero chiavi perché non gioco semplicemente e niente noi ci vediamo domani vediamo un po' se c'è qualcuno da redabia buonanotte buonanotte è un stato del dlc non ha partecipato alla live c'è night blue che gioca a pokemon unite no andiamo da cin andiamo da cin va bene c'è cin buonanotte amici buonanotte ciao c'era valsi ma da cin non ci andiamo mai lì ci vedo sempre sì perché non abbiamo mai visto ok ragazzi andiamo da cin e gli si dice peli pubblici peli pubblici peli pubblici ciao ragazzi ciao ciao ciao